Da dove mi viene? Punto F attraverso Francesca R 20 marzo 2023 a cura di VB. Domanda Da quando ero molto giovane io ho avuto il bisogno di arrivare ad una preghiera permanente. Poi ho saputo che la preghiera permanente è l'invocazione costante del divino durante la giornata e chiamata dalla cristianità orientale esicasmo. Questa preghiera io la pratico anche adesso. Vorrei sapere da dove mi viene il bisogno di questa pratica. Guida Ti viene dalle esperienze passate? Domanda Quindi dalle passate incarnazioni? Guida Sì Non ce l'hai solo tu. Parlo qui in questo cerchio. Il bisogno della preghiera permanente ti viene da un'incarnazione ben precisa e da un richiamo costante e continuo del contatto con il divino, con l'essere, con la tua coscienza. Perciò hai esperienze con questi fenomeni. Domanda Quindi io dovrei essere un'anima antica che ha avuto molte incarnazioni? Guida Qui siete tutti anime antiche. Qualcuna è più evoluta di qualcun'altra, ma siete tutti anime antiche.